Che il matrimonio venga vissuto come un sogno fa parte dell'immaginario internazionale. Che l'Italia sia ritenuta la culla delle bellezze paesaggistiche del romanticismo non c'è dubbio. E allora succede che gli innamorati decidano di superare i confini nazionali per dirsi sì in un luogo da favola. Magari, perché no, su un bellissimo trabocco incorniciato dal mare. Nasce così Destination Wedding, una esclusiva agenzia di matrimoni da favola per turisti stranieri. Uno straniero che decide di venersi a sposare in Italia sicuramente è per chi è affascinato dalla bellezza del nostro paese. Però sicuramente vuole anche vivere un'esperienza memorabile. Perché immaginiamoci che comunque i Destination Wedding hanno delle regole anche diverse rispetto a un matrimonio italiano. Parliamo di matrimoni anche con numeri ridotti perché comunque abbiamo, leggiamo la media, è di 50-60 ospiti. Per cui ridotti ci sta questa ricerca dell'intimità del momento, insieme da vivere insieme alla famiglia e agli amici più stretti. Il sogno italiano per rispettare le tradizioni trova poi il suo coronamento a tavola dove non può mancare il suo prestigioso vino, selezionato e offerto dagli esperti, tutti al femminile. Il vino deve essere un alleato in questo momento, non un pensiero e non sicuramente un crucio. Qual è l'obiettivo? Abbinare vino e cibo in modo tale di riuscire ad esaltare tutte le componenti di questo momento meraviglioso. Quindi noi da donne del vino che cosa possiamo dire? Suggerire abbinamenti con vini autoctoni. Siamo orgogliosi che Torino di Sangro è questo meraviglioso scorcio di paradiso nel nostro splendido territorio che è così vocato all'accoglienza e al turismo. È importante la scelta del particolare, del dettaglio, per garantire agli sposi e alle coppie omosessuali di un giorno felice che sia l'inizio della loro vita insieme.